Da dieci giorni non hanno corrente elettrica nelle proprie abitazioni. Per questo motivo 140 famiglie del Parco Amendola e Cogli Aminei hanno organizzato ieri sera un blocco di protesta in viale Cogli Aminei a Napoli. Per più di un'ora hanno paralizzato il traffico nel rione Alto, costringendo la Polizia Municipale a deviare le auto verso la zona ospedaliera. Il rione è senza corrente da più di una settimana perché nel passaggio di consegne tra l'IACP e il comune di Napoli nessuno ha provveduto alla stipula di un nuovo contratto e per questo motivo l'Istituto Autonomo Case Popolari ha staccato i contatori lasciando le 140 famiglie senza corrente elettrica. Allora questa è una situazione praticamente di un contenzioso nato tra questo parco che è stato lasciato dall'IACP al comune di Napoli. Questo evento ha scatolito che praticamente l'IACP ha dato le case al comune di Napoli e il comune di Napoli non era pronto a ricevere niente ci ha abbandonati totalmente, sia per quanto riguarda in questo caso la luce e anche la manutenzione. Tutto, tutto, come si vede anche dalla strada, non fanno assolutamente niente. 140-150 famiglie, ci sono problemi eclatanti di palese, voglio dire, criticità sulla sicurezza. Basta dire anche il muro di ricintazione del perimetrale di questo parco che è stato messo in sicurezza, ma tutto è tranne che ne ha messo in sicurezza. Cioè io domando, ma è possibile che ogni volta ci adesce per forza un morto e risolvere qualche problema?